Buonasera a tutti, vi mostro la mia piccola nuova creazione. Dopo avervi fatto vedere il tutorial del braccialino fatto con le gocce della Toho o della Miyuki, vi voglio mostrare una variante di braccialino che ho fatto poco fa. Questo braccialino si chiama Pablito, diciamo che in parte mi sono ispirata al film Il Postino, uno dei film che preferisco. Non so perché si chiama Pablito, si chiama così. Allora, questo è il bracciale. Come l'ho realizzato? Allora, ho preso del memory wire, vedete, il filo memory, e ho alternato 5 rocai da 8, 0 e un fiorellino di gocce. 5 rocai da 8, 0 e un fiorellino di gocce. Ho inserito in totale 9 gocce per lato e al centro ho fatto una piccola fascettina con le delica e le rocaie da 15 e l'ho messa, diciamo, nella parte centrale. Vi faccio vedere il bracciale indossato. Eccolo qui, a me piace. Molto carino. E vorrei fare qualcos'altro di simile. Ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutte. Ciao ciao!